trappola di finire negli abusi che i narcisisti fanno per evitare di finire poi in situazioni peggiori. Ovviamente il termine narcisista viene utilizzato poi per descrivere persone nella società odierna, diciamo, che manifestano diverse caratteristiche, perché tanto non avremo mai la certificazione di uno psichiatra che vada a certificare che abbiamo veramente a che fare con un narcisista, proprio perché i narcisisti hanno un loro modus operandi per cui pigliano pure per il culo quelli e quindi hanno proprio questa capacità di, diciamo, come dire, mettersi in fuga, tra virgolette, mettersi, non farsi incastrare. Però, diciamo, l'effetto dei narcisisti o dei manipolatori, diciamo, sulla vita delle persone va ben oltre l'aspetto superficiale, no? Perché il narcisista ti crea delle situazioni in cui ti tiene veramente in trappola, ti tiene intrappolato in un mondo surreale, ti tiene intrappolato in un mondo finto, ma in un mondo in cui paghi un prezzo alto. E quindi è estremamente importante imparare riconoscere, diciamo, tra virgolette queste trappole, imparare a riconoscere queste situazioni e questo è un punto, molto importante, scusate, un punto fondamentale per potersene poi liberare. E quali sono, diciamo, le strategie che utilizzano i narcisisti? Intanto la prima cosa è l'incantesimo, no? Perché i narcisisti sono esperti di incantesimi. Diciamo, spesso sono anche individui affascinanti, magnetici, soprattutto gli strionici, sanno catturare l'attenzione, sono dei teatranti, sono meglio di Gasman, meglio di Carmelo Bene. Hanno proprio tutta una serie di caratteristiche per cui riescono a gestire, diciamo, le situazioni al meglio da un certo punto di vista. Qualcuno è ben nascosto, qualcun altro non è ben nascosto, ma questo è un punto fondamentale. Americano, casa, da sola? Quindi bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione. Nella scala gerarchica, sì, spesso si nascondono dietro al ruolo che occupano e anche in base alle competenze, certo, certo, è vero, condivido molto quello che dice Giorgio. E comunque tendono a creare questo incantesimo iniziale, no? Che è progettato, come dire, per far sentire la vittima speciale, desiderata e quindi crea fondamentalmente dipendenza emotiva. Poi c'è la fase della manipolazione emotiva, no? Perché una volta che ha conquistato la tua attenzione, ha conquistato il tuo affetto, ha conquistato il tuo amore, inizia a manipolare le tue emozioni, idealizzandoti in un certo momento e poi svalutandoti in un momento successivo. Quindi quando ti idealizza esalta le tue qualità positive, quando ti denigra critica le tue qualità negative. Insomma, sono quelle che anche nella seduzione, per certi versi vengono utilizzate le cosiddette rollercoaster emotional, credo che sia giusta la dicitura, le montagne russe emozionali, rollercoaster emotional. E questo è un punto fondamentale. E poi, diciamo questo, che il narcisista utilizza anche, quindi queste montagne russe creano dipendenza, creano confusione nella persona che li subisce, che cerca disperatamente, diciamo, di ripristinare un'approvazione, cerca disperatamente di poter di nuovo avere approvazione. E poi, come ho detto in tante volte, c'è il controllo dell'isolamento, cioè limitare l'accesso alle risorse esterne. Ecco, questo è un qualcosa di molto importante. Lo fanno anche gli stati, ovviamente, limitando l'accesso alle persone, quando noi non potevamo uscire, non potevamo fare certe cose. Quindi veniva limitata la nostra libertà, attraverso diversi mezzi coercitivi, più o meno coercitivi, che comunque andavano in qualche modo a bloccare, andavano in qualche modo a rovinarci, diciamo, a distruggere praticamente le persone. Quindi i narcisisti utilizzano, diciamo, il sabotaggio delle amicizie e creano dipendenza emotiva oppure dipendenza economica. Dipende questo dallo status in cui si trova il narcisista, se è ricco, se è povero, come ammesso, insomma. Però cerca di creare dipendenza economica. Quindi impedisce alle altre persone di ottenere delle prospettive diverse, di mettere in discussione la realtà distorta. Ecco, ti fa entrare in questa sorta, come dice Giorgio Cameli, di incantesimo. Dice Giorgio che non vogliono capire che la radice è l'essenza in imprinting, che nasce dopo la reattività emotiva e la logica dei cinque sensi, un'ottimizzazione del processo emozionale, a chi non spiega. Giustamente, sì, noi siamo tutti, tra virgolette, vittime o comunque prodotti dei nostri imprinting, sia le vittime che i narcisisti che un po' tutte le persone. L'imprinting dovrebbe essere, diciamo, e sono emozioni compresse, emozioni, rabbia, attaccamenti, frustrazioni, tutto quello che è stato compresso e che quindi è diventato uno zombie, sono diventate emozioni che hanno quasi vita autonoma e che comunque non vedono l'ora di uscire fuori e condizionano la nostra vita. Ovviamente sono tenute compresse dai meccanismi di difesa. Il narcisismo è uno di questi meccanismi di difesa che tiene compresso però un mondo, come dire, un mondo distruttivo, tiene compresso un mondo nefasto, negativo, no? Dentro l'anima del narcisista c'è quest'anima nera. La logica è un processo, diciamo, successivo, ovviamente. E che perché sono stati quelli tipi con noi non possono essere con un tosicopendente, sul proprio maggiore n? Beh, sì, beh, lo Stato, beh, perché probabilmente interessa avere il tossicodipendente, questa è una mia opinione ovviamente. Comunque, detto questo, teniamo presente che poi la realtà tende, tendono a consolidare la distorsione della realtà attraverso un altro strumento molto potente che è il gaslighting, cioè una forma di manipolazione psicologica che fa dubitare a chi lo subisce della propria percezione della realtà. Quindi utilizzando negazione, menzogna, manipolazione, ti fanno sentire confuso, insicuro, indeciso, quindi perdi due poteri fondamentali che sono il potere decisionale e il potere di conquista, cioè la vittima del narcisista non sa conquistare da un lato e non sa decidere. Ha queste due carenze, queste due lacune e quindi entri in uno stato ovviamente negativo, nefasto, in cui hai perso veramente tutte le tue capacità. E poi ovviamente tu entri, diventi dipendente del narcisista per sperare di tornare nuovamente alla fase iniziale dell'idealizzazione. Questa dipendenza emotiva ti rende estremamente difficile, cioè allontanarti dalla relazione tossica, perché speri, è la speranza di poter ottenere qualche cosa, è la speranza di poter ottenere un risultato. I narcisisti sono messi nel manipolare la percezione, diciamo, utilizzando critica costante, disprezzo, ti mettono in ridicolo, cercano di minare la tua fiducia, la tua autostima, per mantenere il potere e il controllo. Ecco quindi che questo è un altro problema, i narcisisti che non hanno empatia, i narcisisti che non hanno empatia, cosa fanno? Questo è un punto fondamentale, utilizzano l'empatia delle vittime, utilizzano l'empatia delle vittime per intrappolarle, perché le persone empatiche tendono sempre a vedere il meglio degli altri, cercano di aiutare sempre gli altri, cercano di entrare sempre positivamente con gli altri e i narcisisti sfruttano questa caratteristica, sfruttano questa situazione letteralmente per entrare, diciamo, in una situazione di dominio sulle altre persone, cioè il narcisista cerca di dominarti, cerca di toglierti praticamente tutte le possibilità di accesso, cerca di toglierti tutte le possibilità di libertà fondamentalmente, ha un po' questo modo di fare, un po' questa caratteristica, fanno mirroring, utilizzano un po' di situazioni estremamente negative, estremamente nefaste che ti mettono in crisi fondamentalmente, ti mandano, ti mettono in un buco nero, sono abili manipolatori, però c'è una via d'uscita, questo è un punto fondamentale, abbiamo una via d'uscita e la via d'uscita è la via d'uscita del coraggio, che richiede appunto coraggio, richiede consapevolezza, richiede riconoscere i modelli manipolatori abusivi, devi imparare a fidarti delle tue intuizioni, devi non perdere le tue amicizie, mantenere il distacco emotivo, mantenere la tua autostima, questi sono tutti i lavori che vanno fatti se vuoi veramente liberarti da questa situazione, questo è un dato di fatto, la cosa peggiore che per corpo di loro è che si lamentano sempre, è vero, è vero, dobbiamo però liberarci, ecco questo è, sono abili manipolatori, sfruttano le debolezze, quindi dobbiamo, come dire, fare anche atti di coraggio, perché vivere una relazione con un narcisista è sicuramente un'esperienza dolorosa, distruttiva e quindi dobbiamo imparare a difenderci dagli abusi di questi individui manipolatori, proteggere la nostra integrità emotiva e quindi ovviamente la prima cosa è riconoscere i segnali di avvertimento, purtroppo anche in relazioni dove poi si possono manifestare femminicidi o situazioni di questo genere, il primo passo è quindi riconoscere i segnali, quindi riconoscere i segnali di avvertimento, riconoscere che non c'è empatia, riconoscere l'arroganza, riconoscere la costante ricerca di ammirazione, prestare attenzione a questi segnali è la base, come imparare a stabilire, come dicevamo in tante live, dei confini, impara a dire di no, impara a essere assertivo, impara a non sentirti in colpa, impara a mandargli affanculo e questo è il falso sé del narcisista, dice Giuseppe Camelli, è il risultante delle frammentazioni, sì, sono delle maschere, diciamo, sono maschere false, fasulle che in qualche modo dobbiamo cercare di mettere fuori gioco, cercare di mettere i capo se ci riusciamo, ovviamente non è detto che sia cosa semplice, non è detto che sia cosa facile, però dobbiamo provarci, dobbiamo provarci perché questo è l'unico modo per poter essere felici fondamentalmente, con persone che cercano di minare la tua autostima, cercano di distruggere la tua fiducia, bisogna imparare a riconoscere e respingere, diciamo, queste forme manipolatorie. Importantissimo è condividere, diciamo, l'esperienza con altre persone che in qualche modo possono formalmente, diciamo, anche darci un aiuto, mantenere la distanza, mantenere la distanza e la lontananza, una delle strategie più efficaci per difendersi dagli abusi dei narcisisti è proprio quella di mantenere la distanza e la lontananza da loro, interrompere completamente la relazione e ridurre al minimo i contatti negli ambienti, nelle situazioni in cui possiamo farlo, ma di solito possiamo farlo, quindi è focalizzarci sull'autocura, cioè sul volere bene a se stessi, praticare attività fisica, praticare la meditazione, una meditazione importante, dedicarsi alle proprie passioni, dedicarsi ad altre persone e trovare nuove fonti di approvvigionamento emotivo e questo è un punto fondamentale, dice Giorgio Gamedi, la comunicazione migliore che possiamo applicare è quella rivolta verso noi stessi, esatto, dovremmo imparare a girare la luce verso la nostra interiorità, condivido pienamente questo perché soltanto noi possiamo guarirci, soltanto noi possiamo trovare la quadra giusta, quindi anche praticare degli hobby, meditare, trovare la propria interiorità, sono tutte cose che ci permettono di superare e recuperare le ferite, diciamo, che inevitabilmente i narcisisti ci hanno causato, quindi serve consapevolezza, serve determinazione, serve impegno, imparare a riconoscere i segnali, perché questo è fondamentale, imparare a coltivare l'autostima, cioè a fare delle cose che ci danno piacere, perché in questo modo daremo forza alla nostra interiorità. E poi dobbiamo disinnamorarci, cioè disinnamorarsi di una persona narcisista può essere un processo emotivamente complesso, ma comunque sfidante, perché dobbiamo metterci impegno, dedizione, ma liberarci dall'attaccamento e riprendere il controllo della nostra vita. Prima cosa accetta la realtà, accetta la realtà che sei coinvolto con una persona negativa, nefasta, manipolatrice, distanziati, prendi le distanze, affronta le tue emozioni, questo è un punto fondamentale, perché potresti provare rabbia, tristezza, tradimento, perdita, vanno riconosciute, perché non dobbiamo metterci, come dire, a fare come lo struzzo, e questo è importante, perché se, grazie Miriam, perché se noi non facciamo così ne saremo distrutti fondamentalmente. E poi, diciamo, lavora sulla tua crescita personale, investi il tuo tempo in energia, in attività che ti appassionano, coltiva relazioni, altre relazioni, quindi impara nuove competenze, lavora sulla tua autostima, ed evita di dedicargli pensieri, perché i pensieri, se dedichiamo troppi pensieri, ne restiamo vinculati, ne restiamo bloccati. Questo è il processo di distacco, richiede un po' di tempo, richiede un po' di impegno, ma sicuramente dare i suoi benefici. In questo modo eviteremo tranquillamente di, diciamo, essere abusati, essere distrutti dai narcisisti, bisogna impegnarsi, ma ce la possiamo.